È bastata una bomboletta spray per imbrattare quasi tutti i manifesti, posti negli appositi spazi, del Comitato per la Salvaguardia Ambientale di Piazza di Coso. Un comitato surto contro la realizzazione di un allevamento di ovifauna nella valle di San Egidio. Un raid vandalico in piena regola, compiuto con la precisa volontà di non rendere più leggibili i volantini affissi in tutta Cupra Marittima. I gnoti hanno coperto i manifesti e nel contempo hanno realizzato scritte offensive ed intimidatorie verso i membri del Comitato. L'affissione, scrive in una nota il presidente Gabriele Illuminati, aveva il solo scopo di informare i cittadini cuprensi sui rischi ambientali che tale impianto potrebbe produrre. Tali atti vandalici, prosegue Illuminati, tentano di negare il sacrosanto diritto di informazione e conoscenza che tutti i cittadini debbono avere. Una sveglia amara quella che attendeva stamattina i componenti il Comitato che prontamente si sono recati presso la locale stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia contro i gnoti. Ora bisognerà verificare se in alcune delle aree occupate dai manifesti fossero presenti telecamere di sicurezza che hanno ripreso gli imbrattatori. Un brutto colpo ad ogni buon conto per chi da tempo lotta per evitare che il maxi allevamento approdi in contrada San Egidio. I residenti, le attività ricettive e di ristorazione della zona temono infatti la contaminazione delle acque e la diffusione di malattie dovute alla convivenza con 700 capi tra polli e altri volatili. Inoltre vogliono evitare che riconoscimenti come la bandiera blu volino via con l'arrivo dei due enormi capannoni dedicati alla vifauna.